Molto spesso capita anche, e mi è capitato, di sentire anche persone che mi hanno detto io ho subito un furto in casa e non sono neanche andato a denunciarlo perché a che cosa serve? Perché poi intanto non gli fanno niente. A che cosa serve? Tanto serve per le statistiche, a che cosa serve? Forse per l'assicurazione, forse. Io ho collegato una tabaccaia che ha avuto sbagliate rapine, le ho denunciate all'inizio, poi non mi è capitato più nulla, lei ha portato addirittura i video con i volti scoperti dei banditi e ha detto a questo punto non ci vado più, mi compro un'arma perché non sono più delle condizioni di fidarmi. Ieri ero alla festa della polizia a Pavia e sono state date delle statistiche importanti dove si dice che sono diminuite le rapine, sono diminuite i furti, una situazione comunque di diminuzione dei reati che sicuramente è vero, io non dico di no, non dico che vengono falsati i dati, assolutamente non lo dico e non lo penso, però sono sicuro che c'è tanta gente che in questo momento e che ci sta magari anche vedendo che ha subito un furto che a denunciarla non c'è andata. Poi sul discorso proposta del Partito Democratico sulla legittima difesa in casa, la nostra proposta, sono due proposte diverse, sono due visioni totalmente diverse. L'importante per me Gianmarco Centinaio è che poi alla fine si arrivi alla tutela di chi ha subito il furto, la tutela di chi ha subito l'ingresso del rapinatore in casa o nell'esercizio commerciale e che si è difeso. Io voglio andare a tutelare quella persona, lo si tutela a modo come vogliamo noi, per me sarebbe meglio, ci abbiamo provato, il Partito Democratico ha rimandato in commissione la nostra proposta, adesso hanno fatto una proposta alternativa? Benissimo, ci stiamo avvicinando alle elezioni e di conseguenza stanno diventando tutti più a tutela della sicurezza. Anche a sinistra cominciano a capire che cosa vuol dire sicurezza. Ma va bene, a me va bene, perché l'importante è il risultato. L'importante è la tutela della proprietà privata e di chi ha abitato. La suaommes, la mia industria, la loro crisi, i suoi i suoi i suoi i suoi i suoi i suoi,